salve a tutte e tutti amiche e amici di youtube il vostro santen chan vi saluta vi ringrazia di seguirlo e vorrei dire che in futuro continuerò a condividere il mio interesse per i libri e la letteratura ho provato a cercare degli editori in internet e se fra voi c'è qualcuno che è un editore e che mi vorrà pubblicare io sono disponibile a accettare la sua proposizione perché fin dai 12 anni volevo essere uno scrittore ma il fatto che è difficile che ti pubblichino mi ha sempre molto demoralizzato saluti saluto anche a travaglio se lui mi vuole avere come giornalista come collaboratore o mi vuole pubblicare accetto anche da lui un'offerta come vedete leggere mi è sempre piaciuto un sacco però non riesco a trovare nessun editore in internet e by o dei siti pubblicano on demand cioè quando loro mettono fra i loro tipi il tuo titolo poi quando qualcuno lo chiede lo stampano lo vendono non ti fanno pagare nulla ma ti scontano le spese del tuo guadagno ma io non so come funziona se bisogna iscriversi a pagamento e quindi ripeto se fra di voi c'è un editore che mi voglia pubblicare io sono disponibile a accettare la sua proposta grazie di tutto e alle prossime recensioni letterarie che farò al più presto ciao